Benvenuti cari ascoltatori e ascoltatrici, a me le orecchie state per ascoltare un inedito racconto tratto ispirato e ripercorso dal repertorio canoro dei Bregoli, antichi canti della cultura mineraria italiana, canti dei minatori di Pezzazze, Valle Trompia, Brescia. Mi sono ispirata a questo repertorio che nella mia infanzia ascoltavo cantare dai miei parenti minatori per scrivere queste My Ballad's Child, quindi buon ascolto. Cecilia. Non era mai stato a Milano, ci si trovava grazie a servizio militare. Così quella mattina di libera uscita si recò al mercatino di Porta Genova. Era una rara bella giornata di marzo, un sole tiepido aveva convinto anche i più anziani ad uscire. Il mercato era affollatissimo, persone di ogni classe sociale, età, genere. Un vociare confuso si alzava dalla folla. Egli si guardò attorno con la faccia sorridente. Quanta gente, pensò, ci vuole solo la metà per fare quelli del paese mio. Si aggiustò la divisa. Era a posto. Gli piaceva essere guardato dalle ragazze che poi confabulavano tra loro sussurrandosi all'orecchio chissà che. Si vergognò del pensiero. Era sposato alla Cecilia, che a casa lo aspettava, fino alla fine della sua ferma militare. Era talmente sopra pensiero che con una spalla urtò un uomo. Quello si girò. Aveva un viso squadrato e volitivo. «Ehi, soldato!» esclamò con un sorriso. «Mi capiti proprio a fagiolo. Ecco per te. Sai leggere?» A quella domanda avvampò in viso. Solo da pochi giorni, infatti, un commilitone gli stava insegnando a leggere e scrivere. Per non sicurare rispose «Certo, sono mica stupido». «Bene», fece l'altro, «siamo nel 1892 ed è ora che noi, i più oppressi, ci si organizzi. Voi altri soldati siete le nostre avanguardie». Non aveva capito bene tutte le parole che quel tizio, dai modi spicci e abiti poveri, gli aveva detto. Però c'era qualcosa in lui, che ispirava fiducia. Esitò e poi chiese «Come ti chiami?» «Sante, Sante Caserio, per servirti!» E gli porse una stretta di mano vigorosa e sincera. «E tu?» Quello fece di rimando. «Gesuino, ma tutti mi chiamano Gino». Stava per dichiarare anche il suo cognome quando dal fondo delle bancarelle in direzione del giambellino venne un vociare più alto e concitato del resto del mercato. Una voce già serpeggiava tra la folla. «Le guardie rege! Le guardie rege!» Sante raccolse in fretta le sue cose, pochi stracci e una grossa sacca dove nascose tutto il resto degli opuscoli. Gino, distinto, infilò il suo in tasca. Nel trambusto che seguì, Gino fece in tempo a vedere le guardie avanzare nel mercato a cavallo, sulle prime lentamente e poi facendo trottare i cavalli che misero in fuga la gente, ribaltando banchi e merci. Quando si voltò, Sante era sparito. Non sapeva cosa fare. Era un soldato. Pensò «Mi nasceranno in pace? Non cercano me?» La carica a cavallo delle guardie rege si era fermata. Guardie a cavallo ora arrestavano e facevano salire a calci sui carri. Al loro seguito, chiunque capitasse loro, si salvarono solo donne e bambini. Presero anche Gino e lo picchiarono ancora più degli altri. Sul carro stipato di uomini gli venne il magone, ma si trattenne. Aveva un solo pensiero che avviserà Cecilia. Fecero un lungo viaggio su quei carri. Ognuno, dopo un'ora, aveva cominciato a chiedersi dove mai li stessero portando. Quando arrivarono, non ci furono dubbi che fosse il castello Visconteo di Buccinasco. Li fecero scendere dai carri e con il calcio del fucile li spinsero nelle cantine. Grossi cameroni che fungevano da prigione. Presto, la voce degli arresti a Porta Genova corse per tutta la pianura e le valli circostanti Milano. Quando Cecilia fu informata, stava facendo il pane. Subito il suo pensiero corse al marito e uno strano, brutto presentimento si impadronì di lei. Terminata l'infornata, si tolse il grembiule e corse alla vicina chiesa. Entrò di corsa, coprendosi il capo con lo scialle. Fattasi il segno della croce, a passi svelti, si avvicinò al prete che stava spegnendo i lumi. Padre, disse, avete sentito di Milano, degli arresti? Sono in pena, da giorni il mio gino non mi scrive. La sua voce sussurrava, ma era intensa dal dispiacere. Calmati, figliola, rispose il prete. Andrò io a chiedere e appena so qualcosa ti faccio avvisare. Non passarono neanche due ore che il prete si fece vivo alla porta della casa di Cecilia. Figliola, disse, mi duola il cuore dirtelo. Sono venuto io apposta, ma il tuo gino è incarcerato al castello di Buccinasco. Quella impallidì e si appoggiò alla sedia per non cadere dallo spavento. Devo andare ora. Prega, prega, figlia mia, non resta altro da fare, disse il prete, lasciandola abbattuta e muta. Cecilia era una donna che non aveva ancora vent'anni, era giovane e bella. Non aveva ancora avuto figli, sicché la sua bellezza non era ancora sfiorita. Sapeva lavorare sodo e all'occorrenza prendere decisioni e iniziative. Così decise di andare al castello e parlare con chi comandava. Pensava che avrebbe convinto il capitano, dell'assoluta innocenza del marito. Nella sua mente ignara e ingenua, senza conoscere né le accuse né gli accusatori, già immaginava di poter riabbracciare presto suo marito. Da buona economa di casa, aveva risparmiato qualche soldo e con quelli si pagò una carrozza che la portasse a destinazione. Partì che non era ancora giorno. Lungo il viaggio vide le ultime stelle lasciare il posto al nuovo giorno. Arrivò su un ampio piazzale, vide un edificio a pianta quadrata. La facciata a nord si apriva su un portico di cinque campate con arche a tutto sesto. Al primo piano vi era una loggia porticata. Un numero imprecisato di soldati passava avanti e indietro, ma Cecilia non si demoralizzò. Andò verso quelli a guardia dell'ingresso e con fare deciso chiese di parlare al capitano. Guarda il capitano, risposero questi, qui comanda il colonnello, ragazza. Cecilia si prodigò a spiegare che voleva notizie di suo marito, anche egli soldato, e questo fece pena ai militi, che la fecero accompagnare nell'ufficio del colonnello. Davanti alla porta dell'ufficiale un altro militare prese in consegna Cecilia e la fece attendere in una anticamera adiacente. Passarono alcuni minuti e quindi fu fatta entrare. Cosa vuoi? Le disse secco e duro, un uomo anziano e grasso. Cecilia lo guardò negli occhi e gli disse colonnello, la supplico, mi faccia la grazia di lasciare uscire mio marito dalla prigione. L'uomo era seduto dietro una scrivania ricolma di fogli ben impilati, tutta la stanza era sfoglia, a parte il crocifisso e il ritratto del re, alle spalle del colonnello. Se faccio una grazia a te, perché non dovrei farla anche ad altre? Sai quante come te, ragazza mia, vedo ogni giorno? Cecilia abbassò lo sguardo. L'uomo prese un foglio in mano e aggiunse, qui c'è scritto che quelli come tuo marito hanno fatto amicizia con i peggiori nemici dell'ordine costituito e fece una pausa per guardare Cecilia. Lo hanno trovato con degli opuscoli in tasca. Scritti anarchici, mia cara, ne sai qualcosa? No, signor colonnello, rispose Cecilia trepidante, non sappiamo leggere e scrivere, non poteva il Gino sapere cosa si metteva in tasca. Il colonnello trasse un sospiro più di impazienza che compassione e disse, beh, senti, facciamo così. Tuo marito potrebbe uscire, una possibilità c'è. Cecilia si avvicinò ancora di più alla scrivania. L'uomo nel vederla ebbe l'espressione sul viso che ha il gatto con il topo. Colonnello, vi supplico, dite qualunque cosa per salvare mio marito. E non ciò, angosciata Cecilia. Potresti, potresti venire stasera da me? Nei miei alloggi si potrebbe passare un po' di tempo insieme, io e te, o no? Riprese il colonnello e sulla faccia ora aveva un sorrisetto ambiguo. Cecilia si sorprese alla richiesta tanto disonorevole, ma la pena per il suo sposo in carcere era tale che disse, mi lasci parlare almeno con mio marito, mi permetta di sapere se lui è d'accordo. Se sì, questa notte rimarrò qui nei suoi alloggiamenti. Pareva uno spreposito, pareva un'enorme ingiustizia alla povera Cecilia, ma pensare alla sofferenza di Gino in carcere le diede il coraggio. Così il colonnello accettò la condizione postagli dalla donna, chiamò l'attendente e la fece accompagnare nei sotterranei del castello. Quanto fu penoso vedere le condizioni in cui versavano i prigionieri? Topi, sporcizia e aria puzzolente degli escrementi che i poveracci facevano. Cecilia poteva parlare a Gino solo dalle inferiate che chiudevano in una gabbia i reclusi. Quante lacrime nel rivedersi, ma il tempo a loro disposizione era poco. Cecilia raccontò al marito quanto aveva proposto il colonnello. Gino tacque a occhi bassi qualche attimo, poi rivolto a Cecilia le disse vai, vai Cecilia salvami da questo posto orrendo, salvami la vita. La colpa del disonore è tutta mia. Convinci il colonnello, metti quell'abito bianco con il grembiule turchese che tanto ti fa bella, farai migliore impressione. Vedrai, presto uscirò e tutto questo sarà finito. Cecilia assente in silenzio, diede l'ultimo bacio a Gino e fu strattonata via dalla guardia carceraria. Quella sera a mezzanotte in punto, nel silenzio del castello, Cecilia si recò dal colonnello, facendosi forza della speranza di salvare il marito, sognando di vederlo uscire di prigione. Bellietto, fu l'ufficiale di aprirle la porta. La mattina seguente Cecilia di buon'ora fugge dalla stanza del colonnello, scende le scale di corsa ma appena arriva sul piazzale le prime luci dell'alba illuminano un corpo che penzola dal cappio. Inorridita Cecilia riconosce il povero Gino che non ha più vita. Disperata piange e verso la finestra, da dove vede il colonnello dietro ai vetri grida, traditore, infame, hai disonorato me, hai ucciso mio marito. Attirati dalle urla della donna, accorrono i soldati di piantone. Sollevatola da terra in cui, rannicchiata e piangente stava, la portarono di peso sotto il porticato. Erano due giovani del suo paese, li riconobbia malapena, mentre loro invece le ripetevano, va a casa Cecilia, vai a casa, prima che il colonnello faccia imprigionare anche te. Parte la carrozza del cuoco, per la spesa al mercato, tra poco, le dissero. Così Cecilia tornò a casa, con il suo dolore immenso, pesante come un macigno sul cuore. La sua storia non tardò a diffondersi tra i soldati e fra questi lo seppero quei pochi che avevano il coraggio di rischiare la propria vita contro le ingiustizie. La storia di Cecilia arrivò alle orecchie del sante caserio. Mosso a compassione per la povera donna, le fece recapitare un biglietto nel quale le dava appuntamento nella chiesa del paese. Sarebbe stato travestito da donna con un canestro di patate come segno di riconoscimento. Si incontrarono nella chiesa e, nonostante la presenza di altre piedonne in orazione, poterono concordare la fuga di Cecilia oltre confine insieme ad altre e altri che, come lei, pagarono il prezzo della libertà dagli oppressori.